...con Walter e Chiara, che si trovano a Giffoni, Valle Piana, quindi in provincia di Salerno. Ecco tutto a Giffoni, stia ragionando, pure la banda. Eccoci qua, ci vuole qualcosa per far andare meglio il mondo, cosa di meglio che un bel paese, una banda che suona come in questo caso. E quindi siamo a Giffoni, Valle Piana, la banda è il complesso bandistico Lorenzo Rinaldi e noi siamo qui a Giffoni. Quindi permettetemi, dato che ci occupiamo di calcio, ovviamente di fare gli auguri in bocca al lupo alla mia Fiorentina. Ieri ha pareggiato 2 a 2 con l'Udinese, faccio comunque gli auguri a Dino Zoppe. A proposito di auguri, vorrei fare un augurio di buon compleanno a un super tifoso dell'Udinese, Max Gennaro. Buon compleanno, ma proprio con la Fiorentina dovete segnare due gol. Buon compleanno, ma quest'Udinese che mi pareggia con la Fiorentina, mannaggia. Ma quando parliamo di pronostici è subito pronta Chiara, eccola lì, che entro nel nostro bar dello sport. Vai Chiara! Eccomi qua, sono pronta da Piazza Umberto I e sono all'interno del nostro bar dello sport di oggi. E allora, eccomi qua, mi avvicino piano piano verso il signor Giovanni Di Feo. Buongiorno! E lui è proprio il gestore del bar Gianna, che è il nostro bar dello sport di oggi. E' solo un passo dietro a me, eccola qui, è lei, la nostra Maxi Schedina con Totocalcio e Totogol insieme. E siamo pronti per sentire un po' chi sarà il concorrente fortunato che ha la possibilità di vincere con noi fino a 2000 euro, caro Valter. Però, visto che tu sei la nostra sacerdotessa dei pronostici... La nostra lezione di calcio del giorno, dimmi pure. Appunto, io vorrei dire, qual è il big match di oggi, Chiaretta? Beh, oggi c'è una partita molto, molto importante, il derby della Madonnina, Inter Milan, caro Valter. Però, 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 il vero big match ormai, tu lo sai, è quello che si trova in ricevitorie della nuova scommessa dei monopoli di Stato. Certo. E' un'occasione in più per giocare, per vincere, sta appassionando sempre più giocatori. So che il Totogol, questa è una notizia, ma vorrei confermare a te, sta raggiungendo con il suo monte premi cifre iperboliche. Infatti pensate che il jackpot, quindi per il 14, ha raggiunto i 2 milioni e mezzo di euro. Quindi 5 miliardi delle vecchie lire, vabbè, il Totogolo bisogna indovinare quanti gol funziona sempre così. Certo, è facilissimo, bravo Valter, vedo che ormai hai capito tu. Ieri, per esempio, Udinese e Fiorentina. 2 a 2, quindi avremmo dovuto barrare la casella a 4 più. Ah, vabbè, vabbè. E' più facile di così ormai, Valter. Ma ora, vogliamo portare in fortuna qualcuno a casa? Sì, portiamo fortuna. Sentiamo se è già collegato con qualcuno, pronto? 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 Ecco, buongiorno. Buongiorno. Sì, chi parla? Buongiorno. Mi chiamo Corinna. Da dove? Mi chiamo da Cirao Marina, provincia di Crotone. Crotone. Cirao Marina, allora, dalla Calabria. In bocca al lupo, signora, siamo pronti per dare i segni? Vai. Bologna-Livorno. 1. 1. Cagliari-Atalanta. 1. Juventus-Siena, signora Corinna. 1. Ancora 1. Lazio-Parma. 1. Lecce-Messina. 1. Ancora 1. Palermo-Roma. Sti attenta, eh, sti attenta. Palermo-Roma. Eh, lo so. Dica, dica, dica. Però diciamo X. X, va bene, va bene. Regina Chievo. 1. Un trionfo di 1. Genoa Bari. X. Genoa Bari, 1. Genoa Bari, 1. Ah no, ancora 1, ha detto la signora. Fernana-Treviso. X. Cesena-Perugia. 1. 1. Verona-Ascoli. Andiamo veloce, signora. Ancora 1. Napoli-Spall. Eh, io direi 1. Siamo a Salerno, diciamo 1. Perfetto. Bene, brava. Reggiano Avellino. Qui diciamo 2. Il primo 2 della schedina. Il primo 2 di questa schedina. Il primo. Il grande finale Inter Milan. Facciamo X, così non facciamo male a nessuno. Un bel pareggio. E allora, vediamo se la signora Corina è stata fortunata. Lo facciamo vedendo la schedina della gente. Una schedina tutta... Dedicata al cinema, su chiari rimandi, guardatela. La schedina della gente di Giffoni-Vallepiana parte qui, all'interno della cittadella del cinema, dove si svolge il Giffoni Film Festival. Qui sono passati i più grandi artisti del mondo. Qui si respira aria di cinema. Qui è come vivere sempre in un grande film. Sta parlando con me? Ce l'ha con me? Ma sta parlando con me? Sì, è Bologna Livorno? X. Sta parlando con me? Ah, in un grande film. Non c'è niente di meglio nella città del festival dei ragazzi. Entrare in una scuola, bimbi, 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 bimbi. Oh, una bella maestrina. Salve, Cagnari-Atalanta? X. Come si chiama lei? Giovanna, ma tutti mi chiamano Giovannuna. Non vi sto a dire il titolo del film, ma tanto l'avete capito da soli. Buongiorno, bimbi. Sì, Juventus-Siena? Eh, beh, me lo dica lei. Uno. Senta, ma perché stanno tutti zitti? Il silenzio degli innocenti. Signori e signori, la parola a Walter Santilli. Sarebbe Santillo. Eh sì. Vabbè, è uguale. Lazio-Parma? Uno. Signori, noi siamo qui per ribadire il nostro... Vota, Antonio, vota, Antonio, vota, Antonio. Votate Antonio Latrippa. Oh, ma siete sicuri che l'avete pubblicizzata bene, sta riunione? Perché è qui. Lecce Messina. Uno. E Palermo-Roma? Due. Bambini, avete visto il film Il Gladiatore? Sì. E allora, mio via, scatenate l'inferno. Via. Ci sono prima io. Ci sono prima io. Regina Chievo? Uno. E Genoa Bari? Uno. Ci sono prima io. Ma è tutto vuoto state facendo sta confusione? Ma che fate? Una portata e due. Un film. Ah, bene. Ma non è bene. Ci sono prima io. Ma no, ma no. Ma no, ma no. I am the teacher. Isongu professor. The book is on the table. Ulib Sankoku Bari. Il professore sta facendo lezione in inglese, vero? Complimenti. Terrano Treviso? Uno. E adesso se permette, lasci fare meglio sul padrone della lingua. L'amico mio l'ha detto... Un anello. Un altro. Che bello, un altro ancora. E un altro, un altro. C'è Sena Perugia? Uno. Grazie. Grazie, sono miei. Perché lei chi è? Il Signore degli Anelli. Grazie per avermi accompagnato al Cinema Truffaut. Però prima di andar via vi vorrei chiedere... Verona Ascoli. Due. Va beh. Napoli Spalla? Uno. Senta, hanno risuonato. Ma non va ad aprire? No, tanto è il postino. E come fa a saperlo? Il postino suona sempre due volte. Due volte. Mi è sempre piaciuto entrare nei posti dove si decidono cose importanti. Io tocco tutto. Sono anche curioso... O è là? Salve. Ma tu sei Walter Santini? Sì, salve. Reggiana Avellino. Due. Grazie, eh. Certo, Walter, c'hai una faccia. E perché se ce ne avevo due stavo all'università, sotto spirito. Oh, Walter, questo che film è? Febbre da cavallo. Non ha altro. Oh, sportivo? Sì. Inter Milan? Uno. Permette? Oh, sai cosa fa? Sei sportivo, no? Sì. Ecco, arriva. Ehi, cosa fa? Ladri di biciclette. Rega qua. Dove vada? Vedi qua? Ecco. Caduto poi con la bici? Sei caduto, Walter? Ma come si fa? Come si fa ad andare avanti così? Comunque, volevo dirvi che se Santillo si è portata a casa una bicicletta, la nostra signora Corinne ha portato a casa otto segni. Quindi per lei ci sono ottocento euro, complimenti, signora. Complimenti, Corinna, ottocento euro. Bene, allora, e a questo punto la linea di nuovo avanti a Santillo. Complimenti e prima di chiudere uno sfogo da parte di un tifoso campano, quindi Napoli e Salernitana. E io sono uno sportivo campano e faccio un appello. Sì. Vogliamo il Napoli in serie A. Sì. E anche la Salernitana. E anche la Salernitana. Quindi il Napoli deve vincere. Deve vincere per tornare in A. Provate a passare in farmacia che va molto di moda e si vince facilmente. Grazie. Allora, io vorrei concludere. Sì, dimmi tutto. Scusami, prima di concludere, siccome ho visto anche striscia la notizia, tu devi stare attento quando ti muovi perché dai, capito, delle manate alla gente. Vabbè, ma non è vero. Vabbè, non è vero. D'altra volta abbiamo vinto con la prova misteriosa, no? Perché c'era un signore che ha vinto con 36 mila euro e gli hai dato un ceffone. Oggi, esattamente, per la parola misteriosa, dove sei, in quale piazza la gente si deve catacultare. Siamo in piazza, ho Umberto Primo e saremo qui. E io voglio chiudere soltanto come fanno i giocatori di calcio, visto che gli ascolti ci premiano. Yahoo! Lo sapevo. Io l'avevo detto. Questo sta sempre in me. Ma l'avevo anticipato. Ma ne combini sempre qualcuna. Guarda che secondo me quel povero operatore prima o poi si vendica. Te lo dico. Eh, lo so. Di, di, di. Ma infatti, ma povero, povero Belero. Cioè, insomma, è sempre questi pugni, questo là. Però, cioè, una cosa c'è da dirle, è che Belero c'ha una testa come un televisore 32 pollici. Paga pure lici sulla testa, Belero. Vabbè, d'accordo. Stai sempre in mezzo. Comunque, meno male, possiamo risollevare le soldi. Abbiamo conosciuto anche noi. Allora, musica! Ci vediamo dopo per la parola misteriosa da Gipponi, Valle e Piana. Buona idea, ciao Walter, ciao Chiara. Ciao ragazzi. Ci vediamo dopo, mezzogiorno in famiglia.